Svolta nelle indagini sul duplice omicidio di San Lorenzo del Vallo, lo scorso 30 ottobre Edda Costabile e la figlia Ida Attanasio furono uccise a colpi di pistola a pochi passi dal cimitero del comune nel Cosentino. I carabinieri di Cosenza, sul provvedimento emesso dal procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, ieri sera hanno fermato dopo 10 ore di interrogatorio Luigi Galizia, fratello del 31enne Damiano, ucciso il 26 aprile di un anno fa da Francesco Attanasio, reo confesso dell'omicidio e figlio e fratello delle donne uccise nell'agguato. Luigi Galizia, 37 anni, non aveva dato notizie di sé dal giorno del duplice delitto. Gli inquirenti lo stavano cercando per sentirlo come persona informata sui fatti. Poi, dopo quasi una settimana, si era presentato spontaneamente ai carabinieri ed aveva risposto a tutte le domande degli inquirenti. Oggi è considerato presunto autore del massacro delle due donne, una vendetta compiuta in pieno giorno e a volto scoperto. Certamente vendetta, vendetta nel termine più puro, nell'accezione più pura di questo termine, perché non è un fatto mafioso, non c'è altro motivo. Né è un discorso di fatti, di contrasti familiari, eccetera, come purtroppo in Calabria la nostra storia più o meno recente insegna. La vendetta per la vicenda connessa all'omicidio di Galizia Damiano di cui si è autoaccusato Attanasio Francesco. Le indagini sono in corso, certamente il caso non è chiuso, perché il soggetto ha agito e noi riteniamo che non abbia agito comunque da solo, almeno nella fase di consumazione del fatto delittuoso nella fase successiva, certamente, quindi ci sono sviluppo che ancora vogliamo portare avanti.